Buongiorno, buongiorno alla vostra homeless Tanto vi ringrazio perché grazie a voi mi sono potuto fare i capelli e la barba Cioè la barba, sì i capelli Oggi capelli e barba a zero Come vedete, spero di stare bene, spero tra virgolette di piacervi E niente, oggi faccio questo video che lo chiamo, non lo so come non titolerò, forse curiosità E riguarda il fatto che a Milano in Italia sembra che io sia l'unico a soffrire le zanzare Non so se, cioè voi sapete cosa sono le zanzare immagino, vediamo un po' l'inquadratura Io sono l'unico a cui le zanzare danno la caccia A me era stato detto che a Milano non esistevano le zanzare Perché le temperature non superano i 30 gradi E l'umidità non è quella del centro o sud Italia, chi c'era, vabbè, tutto il resto Però io invece vi dico che gli altri non ho visto una persona che si grattava Aspetta, perché questa è tutta luce, no? Non ho visto una sola persona che si grattasse per le zanzare Vi giuro neanche una Io sono l'unico Ho questa particolarità Ho sempre sofferto le zanzare Veramente Mi sono venuti, mi erano venute a suo tempo anche Vediamo un po' Io devo trovare un'inquadratura Ma lo riesco a trovare Ho sempre sofferto le zanzare Scusate Fin da piccolo, sì Mi erano venute anche le bolle grosse per le zanzare Una ogni tanto Però non si vedeva nulla Veniva una ogni tanto e non si vedeva nulla Però ho sempre sofferto le zanzare Avevo scoperto che era Mi raccontavano la storia dello zero negativo Il sangue Se lo dici te Però anche già dove vivevo Nella città in cui sono nato Non ho mai visto nessuno grattarsi le zanzare Ma qualcuno, ma raramente Anche là raramente Però Però Da Milano Anche qua io sono qua In mezzo a una strada Sono l'unico che soffro le zanzare Chissà se un giorno capirò questo dilemma Mi hanno provato a convincere Che era lo zero negativo del sangue Però mi sembra strano Perché cioè Che sono l'unico a avere lo zero negativo? Sono l'unico? Io non credo Voi che sangue avete? E vabbè Niente Era una piccola curiosità su di me Per conoscermi E niente Poco da dire Ora per dire C'è questo venticello C'è questo tempo Che è un po' variabile Passa dal nuvolo Ha un po' di sole Però le zanzare A me non mi abbandonano Io spero Mi abbandoneranno Perché Mi sto grattando anche ora E niente Che cosa ci raccontiamo oggi? Qual è il motivo? Spero di fare più video Spero Che le cose cambieranno Perché Non sembra che cambino Che altro deve aggiungere? Nulla Io vi saluto Scrivetemi nei commenti Cercate di non essere troppo Offensivi Perché a me non piacciono Non piaceranno mai E detto tra noi Non ho la minima voglia Di cancellarli Perché Cioè Mi scoccia Se uno non li fa direttamente È meglio Certi commenti Non andrebbero fatti Nulla Vabbè Parlate voi delle zanzare Ditemi La vostra esperienza con loro Con me è sempre stato un assedio Tutti contro di me Le zanzare Vabbè Buona giornata a tutti Sì Grazie.